Quali sono le caratteristiche del trattamento con citagliptin in termini di efficacia e sicurezza analizzando i dati degli studi clinici e quelli real world? La cosa che salta di più agli occhi è la semplicità dell'uso di citagliptin, che è un farmaco che incontra una grande compliance da parte dei pazienti, che ha un'efficacia sull'enoglobina glicata e quindi sul controllo glicemico almeno pari a quella degli altri trattamenti orali e che ha un profilo di sicurezza che già sapevamo essere buono e che viene confermato ottimo dei dati del TECOS che sono stati presentati questo pomeriggio. Quindi direi una molecola della quale può beneficiare una vasta gamma di pazienti con diabete tipo 2.